Un viaggio per confermare la Chiesa Cattolica e per incoraggiare il cammino verso la pace e la fraternità. Con queste parole nella Catechesi dell'Udienza Generale Papa Francesco ha definito il suo viaggio apostolico in Georgia e Azerbaijan tra il 30 settembre e il 2 ottobre un proseguimento e un completamento nel Caucaso dopo la tappa di giugno in Armenia. Due paesi dalle radici storiche e culturali religiose molto antiche che stanno vivendo una fase nuova a 25 anni dalla loro indipendenza dopo il regime sovietico e dove ha potuto sperimentare l'accoglienza sincera del patriarca di tutta la Georgia, Ilia II, e dello sceico dei musulmani del Caucaso. In Georgia largamente ortodossa e in Azerbaijan a maggioranza musulmana il piccolo greggio dei cattolici è chiamato a essere presente nel segno della carità e della promozione umana, una missione che non si sostanzia mai nel proselitismo ma nell'attrazione a Cristo a partire dalla forte unione con lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta. Il pontefice ha ricordato ai fedeli presenti in piazza San Pietro i momenti salienti del suo pellegrinaggio. In Georgia la visita nella cattedrale patriarcale, l'incontro con la comunità assiro-caldea, occasione per lanciare un nuovo appello per la pace in Siria, Iraq e in tutto il Medio Oriente. In Azerbaigiana, precisamente a Baku, la messa e l'incontro interreligioso nella moschea. L'incontro e il dialogo con tutti coloro che credono in Dio, ha concluso Papa Bergoglio, ci permette di costruire insieme un mondo più giusto e più fraterno.